bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di mega dropper 2 come potete vedere abbiamo le cosciotte alla barra dell'esperienza perché ovviamente ieri è uscito il video lo speciale per i 100 iscritti diciamo e mi ha aggiornato tutte le mappe boh non so se le cosciotte inizieranno a scendere e la vita inizierà a scendere ci succederemo e basta allora in questo episodio non vi ho mostrato cosa c'è di qua no ok di qua siamo andati però non vi ho mostrato cosa c'era da questa parte allora so che di là c'è un altro livello perché vedo un altro muro di sabbia da quel che capisco allora bit all four drops to unlock the door allora dobbiamo battere tutti i quattro i drop per sbloccare la porta però lì vedo altri cartelli allora ok bit the four nether drops and get case to unlock allora dobbiamo battere i quattro drop del nether per prendere le quattro chiavi quindi oggi penso di farli tutti e quattro e vabbè iniziamo subito volevo capire qual era il più semplice però boh partiamo allora oddio santo ce la lava oddio santo non si vede niente oddio santo oddio santo ce la fa e ce la fa vai così perso un po di vita però abbiamo conquistato la chiave di qua cosa c'è ok c'è l'altra porta va benissimo va benissimo saliamo la scalinati lunga scalinata questa chiave dato che sono entrato qua la dovrei mettere qua se non sbaglio oddio si è aperto minchia quanto è lunga ah pensavo fosse quella parte lì ah ho cannato tutto avrei dovuto metterla di qua vabbè detta di là boh non si capisce niente abbiamo fatto questo no ok quindi ora dovrei farmi questo vai 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 scendi giù scendi giù evita la lava non passarci mezzo che culo che culo ok eppure questa l'abbiamo conquistata ragazzi ne approfitto dato che in sto momento buio perché sto salendo le scale oddio santo allora volevo dirvi che dato che è uscito questo nuovo aggiornamento domani dopo questo video uscirà non nello stesso giorno uscirà l'inizio della serie vanillo ovvero della serie principale che uscirà due volte a settimana su tre volte a settimana scusate sul canale due o tre vuoi dipendere da come mi gira e niente volevo dirvelo solamente perché io non vedo l'ora di iniziarlo dato che è la cosa migliore secondo me la serie principale andiamo a piazzare pure questa chiave noi siamo tuffati di qua quindi ora piazziamola di qua ok partiamo con il terzo drop 3 2 1 via oddio santo che cos'è oddio santo oddio che cazzo era ma guardate che possiamo correre che bello finalmente finalmente si può correre su minecraft poche se diciamo oddio che bello allora arriviamo immediatamente qua e ci buttiamo subito direi di di non so perché secondo me è da fare tutto in centro proviamo oddio 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 e ce la fa e ce la fa signore e signore la spirale di lava viene battuta dai e così pure la terza è stata conquistata però non andrò a piazzare qua dato che abbiamo piazzato prima lì ma l'andremo a piazzare in questo punto qua esatto ora ci manca solo questo e avremo finito diciamo questa parte di livello questa intersezione ok allora sembra mettiamoci lo shift signore e signore lo shift perché voglio capire un attimo ok io dovrei hackerare la mappa in una maniera assurda se faccio questa cosa guardate se io mi metto di qua boom bitch hackerare la mappa in maniera assurda signore e signori e pillo pure il quarto cubetto mettiamo pure questa dove che era dove che era oddio non cadere giù con la sabbia dovrebbe aprirsi il coso esattamente perché non si apre? oh bello apriti oh io le ho completate tutti vabbè che cazzo no non mi morire così lurida merda che pale non ci voglio di farmi tutte le scale faccio così cioè cosa devo farci? mi si è bugato chiudiamo pure qua boom facciamo una cosa a caso e vediamo cosa ci propone ora la mappa dato che non so se è finita allora expert mod vuol dire che questo mi sa che è il livello finale esatto now him i him need look at allora ok allora a parte sta traduzione pessima direi di buttarci tutti in bedrock raga mi sa che questo è l'episodio finale eh quindi boh facciamolo via vai 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 scendi giù senza morire vai vai giù non morire nella lava stupida merda di uomo che sei ora lo faccio giù di getto proprio salto e mi butto giù ok destra destra giù 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 nooo dai mi sembra che l'avevo quasi finito che palle vabbè mo ce la scanniamo con il nostro super e mega grandissima corsa dai via 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 tutto il rigetto tutto il rigetto tutto il rigetto si butta giù si butta giù si butta giù cazzo di buddha io sto prendendo fuoco da qualche capito l'importante è non prendere danno all'inizio cioè più vita abbiamo meglio è quindi vai buttati giù allora stai prendendo troppo danno non ce la farai mai quanto è difficile sto livello uh uh c'è uno scheletro c'è uno scheletro io ti lancio giù dai fai tu il drop stupida merda non sei neanche eh si sti creeper no i creeper no ok dei spawnati tutti grazie mille anche se il creatore due torcette qui in giro le ho potato mettere eh eh allora ritentiamo senza evitare ce la fa e ce la fa signore e signori e stando in silenzio ce la fa oddio che figato come fa a mantenere così la lava oh strafigo allora scendiamo giù e vediamo cosa ci dà la mappa perché che cazzo dobbiamo fare ah ok non vedo niente allora è al massimo la luminosità no si al massimo ah proviamo a salire signore e signori non è finita la mappa ah no ok è finita allora mega dropper vabbè qua ci sono i crediti mace maps mace maps ok eeeh whatsapp che cazzo vabbè c'è il canale che è mega strike mcpe andatelo a vedere che è bravo comunque ha fatto una mappa della madonna hai vinto grazie grazie allora qua cosa dice tutte cose in spagnolo che non so allora kaya papa voltar full to back cos'è ah ok qua ci dice che ci possiamo buttare se vogliamo ritornare al punto di prima va bene ragazzi per questo episodio è tutto vi ricordo di mettere ok non so usare mai la terza persona non sono capace vi ricordo di mettere un bel mi piace iscrivvi al canale e di commentare questo video volevo ringraziarvi molto per i 100 iscritti davvero grazie perché non pensavo di raggiungere questo traguardo in così poco tempo quindi grazie di cuore eeeh uscirà una nuova mappa penso di fare mega dropper 2 però più avanti perché non so se iniziarlo subito devo vedere eeeh vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo domani con un nuovo video bella a tutti ragazzi bella a tutti